Reduce dal pareggio a reti bianche contro il comprensorio del Tinderi, l'Under 15 del Torre Grotta ritorna in casa al Pietro Gangemi a farli visita a Cellinvictus nelle retrovie del campionato Under 15 regionale. 9 punti di vantaggio con due partite in più utili per il 2009 Rosso-Blu che precedono in classifica la Gifra Milazzo, Mirko Lamacchia dal primo schiera, Lamazza, Antonazzo, Licandro, Cudi Spodo, Gangemi, Bendau, Raimondo, Pino, Vento, Grasso e Bambaci. A disposizione a partita in corso il portiere Donato, Fallo, Campagna, Rizzitano e Annello Pulito. Foti giunta interdonato, dirige il signor Davide Billè, sezione di Messina con le luci di Francesco Morabito. Passiamo al film del primo tempo, 10 di gioco, punizione di Bendau, lui è uno specialista, va in raso terra, pallone tra le braccia di Pericone, minuto 13, Torre Grotta con Cudi Spodo che serve vento, calcia verso la porta. Ancora Pericone, minuto 15, si sblocca il risultato, giro palla dell'Invictus, da dimenticare, Cudi Spodo serve Grasso che mira il primo palo, lascia l'estremo difensore di Stucco, 1-0, minuto 18, Bendau su calcio di punizione, prova ancora raso terra, sfera che rimane lì incredibilmente, non libera la difesa dell'Invictus e cala il 2-0, Licandro, minuto 21, Torre Grotta, ennesima punizione di Bendau, stavolta a cercare in aria, Cudi Spodo, girata al volo con il Mancino che finisce però fuori di poco, ventitresimo, Bambaci per Antonazzo, spazio a destra, il pallone finisce in mezzo, Grasso arriva a rimorchio, conclude alto, era un rigore in movimento, minuto 28, il Torre Grotta, ancora approfittando degli errori dei Catanesi, trova la terza rete con Cudi Spodo che cerca Grasso, doppietta per lui, siamo sulle 3-0 ma il risultato è destinato a cambiare, passano 3 minuti, Vento dal fondo mette il pallone dentro, c'è una deviazione sfortunatissima di Carelli dentro la sua porta, 4-0, minuto 32, Torre Grotta che cerca la quinta rete con questa conclusione a 2x2, tra Vento e Pericone che vede il portiere che in qualche modo riesce a respingere, 35esimo, Grasso per Cudi Spodo, pallone in aria, Vento, pallegge in grande stile, poi conclude all'angolino, e il 5-0 del Torre Grotta di Mister Lamacchia che con questo parziale ritorna negli spogliatoi, fin qui gara a senso unico contro l'Invictus, la classifica di fatto conferma quanto visto nei primi 35 minuti al Pietro Gangemi, inizia la ripresa, subito Grasso, incredibile la sua azione a sinistra, Sterza ce l'ha sul destro, poi lascia la conclusione al compagno Pino che non trova lo specchio, 40esimo l'Invictus, indelicato, riesce a entrare in area di rigore, calcia bene, la Mazzare spinge ancora sulla ribattuta Cettaccia, e le golle dell'Invictus, rete della bandiera del numero 13 giallo-blu, 42esimo, esce Bambaci dentro Rizzitano, al 46esimo tocca giunta per Vento, minuto 48, Torre Grotta con Raimondo, il servizio per Pino, cerca giunta in area di rigore, supera anche il portiere, deposita in rete, ma è tutto fermo per posizione di fuorigioco, minuto 50, il sesto gol arriva per il lettore Grotta, con l'ennesimo break che favorisce l'offensiva di Edan Grasso, l'ex Camaro con questo sinistro batte per la terza volta il portiere in questa giornata, 6-1, entra Iannello fuori, Bendaù, 52esimo, il lettore Grotta potrebbe ulteriormente dilagare, palla per Rizzitano che prova l'incursione in area di rigore, l'uscita del portiere che in qualche modo lo chiude, la sfera arriva Q di Spoto che colpisce da fuori area e prende il palo, Grasso potrebbe ribadire in rete, ma la manda fuori, minuto 53, tocca a fallo, fuori Licandro, al minuto 57, entra anche Foti per Pino, il lettore Grotta continua a spingere, il pallone arriva in zona Gangemi, il suo è di fatto un cross, ma colpisce la traversa, minuto 58, esce Grasso, man of the match con una tripletta al suo posto campagna, 61esimo, tocca interdonato per Q di Spoto, 70esimo dalla destra, giunta, mette il pallone all'indietro, Gangemi, piazza il colpo del 7-1, poco prima del triplice fischio da parte della signora Billet che manda le due formazioni definitivamente negli spogliatoi, è vittoria, netta per il lettore Grotta che regola 7-1 l'Invictus, un cordiale saluto amici di Q di Spoto, alla prossima!